Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere. E oggi il nostro gradito ospite Filippo Bertolini che è psicologo, psicoterapeuta e lavora nell'ambito del progetto di Diamo Peso al Benessere. Grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio a tutti. Sappiamo che Diamo Peso al Benessere lavora da diversi anni sul territorio, organizza questi gruppi per questo empowerment, per dare fiducia in se stessi, alle persone che alle volte riescono a perdere peso, invece alle volte magari pur non perdendo peso prendono fiducia in se stessi, riescono ad affrontare tutte le situazioni possibili, quello che non riuscivano magari a fare prima di rivolgersi all'associazione. Ho cercato di fare una sintesi. Benissimo, è proprio quello che facciamo noi. Dal 2001 Diamo Peso al Benessere è un progetto innovativo per aiutare le persone ad acquisire quote di benessere. Naturalmente il nostro focus principale del lavoro è il calo ponderale, insomma perdere peso, ma perdere peso in una maniera innovativa. Non si parla più di diete, non si parla più di calorie, ma si parla di persone. Quindi noi facciamo un lavoro sulla persona con appunto il self empowerment, cioè questo approccio psicologico che aiuta il soggetto, la persona che noi incontriamo, a prendere coscienza delle proprie risorse personali e queste risorse poi vengono messe in moto per stare meglio, volersi bene, stare meglio, a partire dal peso. Poi naturalmente una volta che si impara questa tecnica, questo segreto, lo si può applicare a tanti ambiti di vita. Quindi è un progetto che parte dal peso per arrivare a un concetto di salute nuovo, che non è più in delega al medico, al sistema sanitario, ma è qualcosa proprio una responsabilità personale. Ecco, questo è quello che facciamo. 2000 persone, 70 gruppi e nuovi gruppi in apertura per il prossimo anno. Beh, è una grande soddisfazione questa. Poi dobbiamo anche dire che questo progetto è finanziato dalla regione e quindi avere a disposizione un'ora e mezza alla settimana lo psicologo, psicoterapeuta gratuitamente è una cosa molto molto importante. E' una cosa... Sapere di avere un approdo sicuro, no? Poter andare da una persona, poter parlare, poter esprimere i propri pensieri è già importante. È molto importante. Noi riusciamo a fare, ad offrire alla comunità, alle persone questa possibilità in maniera del tutto gratuita, grazie al sostegno dell'istituzione regionale. Ed è vero, abbiamo la possibilità di un appuntamento settimanale di gruppo per un'ora e mezza con un esperto in self-empowerment, psicologo formato, che ti aiuta a capire come metterti di nuovo in gioco. Perché, come si diceva prima, tante volte il peso, l'eccesso ponderale può essere motivo di anche difficoltà, disagio. Ma a partire proprio da un disagio, a partire da un problema, si può cambiare insieme. Ecco, al momento voi state lavorando, no? Avete appena concluso un lavoro importante in quel di Osoppo? Sì. Vi ha dato soddisfazione, anche questo perché so che siete abituati a lavorare appunto in stretta collaborazione con i comuni, in modo particolare chiaramente a Udine, però anche uscite sul territorio. Sì, noi ci muoviamo sul territorio e pensiamo che il lavoro di comunità fatto in collaborazione appunto con i comuni possa essere veramente un'occasione per far conoscere la nostra associazione, la nostra attività, ma soprattutto dare un'opportunità delle comunità che magari dopo anche tutto questo periodo difficile di pandemia sono un po' sfilacciate, le relazioni sono un po' deteriorate, di formare dei gruppi che lavorano insieme per il benessere. Quindi si mettono in moto, si portano fra di loro alle varie attività fisiche, si mettono proprio in collaborazione. Quindi a partire da un disagio sulla comunità noi lavoriamo per portare quote di benessere. Ecco, i gruppi da quante persone generalmente sono costituiti? Qual è il gruppo ideale? Perché magari se c'è troppa carne al fuoco in un'unica soluzione non è che si riesca a gestire bene la faccenda. Allora, ogni gruppo ha una storia a sé naturalmente, perché appunto è fatto da tante persone, ma la magia diciamo che si crea nel condividere insieme un percorso che ricordiamo dura otto mesi, una volta alla settimana per un'ora e mezza, ti dà la possibilità di vedere come veramente il gruppo sia occasione di cambiamento. Diciamo che normalmente abbiamo dei gruppi che sono fatti da 10-15 persone. Ah, però? Una volta erano addirittura più numerosi, ma vista l'ultima emergenza sanitaria abbiamo dovuto rimodulare. E grazie anche all'azienda sanitaria che ci concede gli spazi per poter tenere questi gruppi, siamo riusciti a mantenere comunque un numero, direi, importante. Più siamo, più il gruppo è ricco, più si aprono possibilità per le persone. Parliamo di un incontro tipo? Che cosa succede durante l'incontro? Allora, è una domanda... Anche per far capire, no? Ma certo, perché è una domanda. Perché siamo abituati a vedere magari degli esempi, magari anche nei film. Buongiorno, io sono Giacomo, sono Gianni, devo raccontarvi la mia storia. Non credo proprio che funzioni così. Oppure sì. Ci sono degli elementi, possiamo dire, di somiglianza comuni. Di certo nei film o nelle serie TV vediamo questi gruppi che hanno un po' questa impronta statunitense per cui si ritrova con il tele, le ciambelle e si parte con le presentazioni. Certo, questa parte c'è perché chiaramente bisogna... Per il tele è meglio lasciarle da parte. Esatto, esatto, esatto. Però in ogni caso i gruppi si svolgono così. Intanto ci troviamo sempre lo stesso giorno e sempre alla stessa ora perché è importante dare una cadenza al percorso. Siamo all'interno di un bellissimo, come posso dire, caseggiato dell'ex ospedale, vecchio manicomio di Via Pozzuolo. All'ospedale psichiatrico. Esatto, all'ospedale psichiatrico. E in questa ora e mezza guidati naturalmente da un professionista. Ecco, forse lì c'è la differenza principale. Noi siamo abituati a vedere dei gruppi di auto mutuo aiuto, per cui siamo tutti uguali, ma non c'è un professionista che dirige un po' o che anche fa rispettare delle regole nel gruppo, come quelle di riservatezza e di sospensione del giudizio. Noi abbiamo un terapeuta che quindi conduce attraverso gli strumenti del self-empowerment un lavoro che a partire proprio dal riconoscimento delle proprie risorse personali poi ti aiuta a metterli in moto, a metterti in gioco e a vedere se a partire dal peso puoi veramente cambiare. Certo è che ci vuole una grande forza di volontà perché entrare in un gruppo, presentarsi, parlare dei propri problemi, effettivamente ci vuole una grande forza di volontà perché non tutti sono disposti a parlare delle proprie cose, dei propri problemi di fronte ad altre persone. Non siamo abituati a trovarci in gruppi, è un'esperienza che per molti è inedita, nuova, però prima di dare avvio dei gruppi noi facciamo dei colloqui motivazionali che servono alla persona per capire com'è il percorso che proponiamo e servono a noi professionisti per poi andare a formare un gruppo che possa lavorare, lavorare bene. Quindi vedete a priori se effettivamente è possibile mettere insieme determinate persone con altre, insomma una piccola scrematura iniziale, divisione. Sì, è una scrematura iniziale che appunto è utile in due maniere, è utile per la persona per capire appunto se è disposta perché sedersi, come si diceva prima, presentarsi e aprirsi. Ho perso 5 chili, ne ho persi 10. Esatto. Ah ma io ti batto. Sì, è difficile. È difficile. Ed è per questo che ci deve essere anche un professionista formato che garantisce, come ho detto prima, anche il rispetto di determinate regole come quelle di riservatezza e di sospensione del giudizio. Noi non facciamo i gruppi per dirci bravo o peggio, ma per condividere possibilità. E acquisire potere, self empowerment, questo è quello che facciamo. Senta, facciamo un bilancio, quindi i risultati che avete ottenuto nel 2022, visto che siamo alla fine dell'anno. Siamo gli sgoccioli. Siamo gli sgoccioli, quindi avete risultati, conseguito risultati positivi? Beh, allora posso fare una panoramica generale, perché è interessante vedere come il progetto si sviluppi negli anni. Di certo è positivo che siamo riusciti a continuare a dare gamba, diciamo, alla nostra attività, cioè ad aprire i gruppi, a venire incontro alle persone, ad aiutarle, no? Quindi i gruppi sono continuati e sono andati bene perché ne abbiamo aperti molti nell'ambito territoriale di Udine e abbiamo lavorato anche nella comunità. Poi dopo abbiamo attivato, perché diamo peso al benessere, non è solo i gruppi terapeutici di self empowerment, ma sono anche tanti altri progetti come respiro e movimento, in cui insegniamo alle persone come respirare, come muoversi. Poi abbiamo dei corsi di educazione alimentare. Non ti diciamo la caloria più o meno, ma ti spieghiamo come alimentarti e come il tuo corpo funziona. Abbiamo fatto anche il weekend della salute, tre giorni insieme per fare una full immersion di self empowerment. Quindi l'attività dell'associazione è andata a gonfie vele. Noi pensiamo che il 2023 possa essere un anno ancora migliore. Speriamolo sia, ecco. Di progetti ne avete tanti. Sì, i progetti sono tanti e è importante ricordarci che sono tutti progetti che partono anche dalle idee dei nostri associati, perché noi siamo un'organizzazione di volontariato, quindi ad esempio nel respiro e movimento ci sono i nostri volontari che formano le altre persone in modo che possiamo avere un benessere circolare. Una volta che tu hai imparato gli esercizi ad esempio di respirazione, che ti impedisce di poterli fare a casa e quindi è un diffondersi della salute che noi promuoviamo, non un intervento puntuale solo sul peso. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento bisettimanale e non possiamo fare altro che salutare Filippo Bertolini che deve ricordarsi. Ricordo il numero. Velocemente il numero. 340-289-1151 risponderà la signora Liliana, che è la nostra responsabile dello sportello d'ascolto, e vi darà tutte le informazioni per intraprendere un percorso di cambiamento e di salute. Liliana per sempre, la salutiamo. È vero, salutiamo, grazie Liliana, grazie di quello che fai per noi. Bene, grazie appunto a Filippo Bertolini, che ricordiamo è essere psicologo, psicoterapeuta e che lavora all'interno dei progetti dell'Associazione Diamo Peso al Benessere. E noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie.